Volevo soffermarmi un po' sulle parole di Ima Juric post derby a qualche giorno di distanza perché sono andato a recuperarmele e quindi volevo condividere con voi qualche riflessione. La prima cosa che ho notato è che parrebbero esserci delle parole di distensione verso la società. Si arriva da mesi comunque abbastanza interlocutori, sappiamo che il tema principale per quanto riguarda l'allenatore è quello legato al rinnovo o meno, se non rinnoverà, visto che Juric ha un contratto di scadenza 30 giugno 2024. Juric dice che c'è armonia con la società, mi trovo bene con i ragazzi, la squadra lavora bene, siamo tutti uniti, lavoriamo insieme e comunque classifica alla mano. Juric dice anche che dobbiamo cercare di giocarci le nostre chance per l'Europa fino in fondo, sottintendendo che comunque è vero, il calendario non è affatto semplice, però in queste ultime partite il Toro paradossalmente non ha nulla da perdere e quindi, sottintende Juric, il tema contratto è rinviabile perché ci dobbiamo focalizzare sul campo. Ecco, in realtà su questo io non sono d'accordo perché, a parte che le due cose possono collimare in contemporanea, ma poi il Toro, con o senza Juric, deve già sapere in anticipo che cosa fare la prossima stagione perché se l'allenatore andasse via va pianificato innanzitutto la nomina di un nuovo allenatore, secondo poi bisogna capire che cosa porterà il mercato, perché non è detto che chi arriverà dopo Juric adotterà gli stessi principi tattici di gioco dello stesso mister. Poi, un'altra cosa con la quale sono abbastanza d'accordo è quando Juric dice c'è differenza con le grandi, lo abbiamo visto, noi siamo una squadra leggerina e manchiamo soprattutto in certe zone di campo. Poi dice, mi aspettavo di più dal punto di vista dei gol dagli esterni e dai centrocampisti, vero, e in tal senso uscirà un video in cui metto a confronto qualche numero tra i nostri esterni, i nostri centrocampisti e quelli delle altre squadre, però ecco, sarò uno dei pochi a pensarlo, mi sembra che da questo punto di vista Juric non abbia chiuso a priori al rinnovo e bisogna capire a questo punto cosa vuole fare la società, con i ruoli che sostanzialmente si sono invertiti, perché per tutta questa stagione è stata la società, anche a mezzo stampa, a far capire che comunque avrebbe avuto piacere a continuare con il mister. Però il mister, ogni tre per due, ha sempre messo dentro frasi abbastanza sibilline del tipo, se non andiamo in Europa cosa resto a fare, mi è stato dato un compito dopo tre anni, se lo raggiungo bene, se non lo raggiungo mi devo fare da parte, e questa cosa ha frustrato anche un po' la società, soprattutto Cairo, che se vi ricordate, in occasione nel post Torino-Lecce, si parla più o meno di metà febbraio, all'ennesima domanda sul rinnovo di Juric, risposta abbastanza piccata ai giornalisti, dicendo che non è arrivato a un punto in cui non me ne frega più un C, dicendo anche in parole povere, il Torino esisteva prima, esisterà dopo Juric, fermo restando, e questo bisogna dargli un reatto, a Cairo che l'ha sempre specificato, se ci sono i presupposti per andare avanti insieme, il Torino non ha problemi a offrire il rinnovo al mister, per un mister che ha sempre nicchiato fino a queste ultime settimane, dove appunto mi sembra ci siano un pochino più parole di apertura verso il club, per quale motivo? Ma uno potrebbe essere che non ha ben chiaro cosa fare il prossimo anno, e qua si aprono due discorsi, il primo è legato alle motivazioni, cioè se Juric rinnova, ma lo fa perché non ha alternative, e quindi resta il Toro perché altrimenti non saprebbe che fare, io non sono molto d'accordo, se invece resta perché è convinto, o perché comunque la società magari farà uno sforzo, credo più economico, che dal punto di vista tecnico di allestimento della squadra per trattenerlo, allora è un altro discorso, si può pensare anche di continuare, posto che poi io sono d'accordo con il ragionamento, Juric è sicuramente un bravo allenatore, ma il Toro ha 100 e passa anni di storia, e Juric ne ha scritto lo 0,1%, per cui se rimane bene, ma per me è importante che rimanga convinto di rimanere, e questa è una discussione che ho già avuto anche in questi giorni su Twitter, mi si dice, ma forse il mister vuole testare le ambizioni della società, le ambizioni della società non sono da testare, sono le stesse danni a questa parte, il Toro non ha la forza economica di competere per entrare stabilmente in Europa, posto che poi sono state fatte delle scelte sbagliate, proprio anche a livello dirigenziale, di uomini in dirigenza e di uomini sul campo, perché il Bologna con molto meno quest'anno probabilmente rischia di andare in Champions League, e gli anni scorsi stesso discorso lo possiamo fare per l'Atalanta, ma ecco il Toro può solo pensare di fare un campionato di centro classifica, rimanendo attaccato al treno europeo, come sta facendo quest'anno, e ormai siamo arrivati a metà aprile, quindi direi che giocarcela ce la giochiamo fino in fondo, poi se non dovesse essere non è che siamo partiti con la pretesa di qualificarci all'Europa, però bisogna fare un campionato giusto anche per quelle che sono le spese della società, quindi le ambizioni, ammesso che voglia dire qualcosa, sono quelle di stare stabili nella parte sinistra della classifica e provare ad attaccarsi al treno dell'Europa, quello che manca lo deve mettere l'allenatore, e lo devono mettere anche un po' i giocatori in campo, perché diciamo, nella prima parte di stagione tantissimi, soprattutto i nostri big, definiamoli così, ecco per dargli un attimino un'accezione, sono mancati, però anche l'allenatore deve metterci qualcosa di suo, come ha fatto Tiago Motta quest'anno, ma anche in parte l'anno scorso al Bologna, come ha fatto in questi anni Gasperini a Bergamo, perché il Gasperini che porta per la prima volta l'Atalanta in Champions, si mette dietro almeno tre squadre più attrezzate e più ricche della stessa Atalanta, quindi non è un tema di soldi, o di quanto si spende sul mercato, o di appunto ambizioni, è un tema che il Toro è in questa dimensione qua, almeno con l'attuale proprietario e l'attuale società, e Yulich lo sa, perché ormai è qua da tre anni, e ha capito come suona l'antifona, a posto che poi, voglio dire, non è che Torino è Pyeongjang, non siamo in Corea del Nord, e tutti sanno come lavora Cairo, quindi nel momento in cui ti accetti di venire al Torino, prendi oneri e onori, e tra gli onori c'è anche uno stipendio molto alto, che comunque Yulich, se dovesse rinnovare, almeno andrà a prendere gli stessi soldi, per cui di questo non può certo lamentarsi. E quindi parlare di aspettative, non ha senso, le aspettative sono quelle di fare una squadra competitiva, per cercare di rimanere più o meno lì davanti, attorno al settimo, ottavo non opposto, e magari approfittare della stagione sorta di qualche squadra, e quest'anno siamo stati veramente sprecori, perché come vedete davanti a noi non ci sono squadre che corrono, Napoli, Lazio, Fiorentina, è vero che c'è stato l'exploit del Bologna, però appunto Napoli, Lazio e Fiorentina, erano squadre con cui, con 7-8 punti in più che potevamo tranquillamente fare, eravamo lì a giocarcela, anche perché in alcuni sconti diretti abbiamo dimostrato di poterli impensierire, penso solo alla partita con il Napoli dell'andata, dove li abbiamo schiantati. Quindi ci deve essere la consapevolezza che il Toro è già una buona squadra, che non può trattenere i migliori se arrivano offerte altre, ma che con delle scelte sul mercato oculate può fare benissimo quello che ha fatto il Bologna quest'anno. Magari non dico andare in serie sia nella lotta a Champions, ma fare un campionato importante e rimanere stabilmente in zona Europa e lo può fare con l'attuale allenatore. Se però da parte di Juric c'è anche un'apertura mentale ad accettare il fatto che il Toro è questo, la società è questa, il proprietario presidente è questo e che quindi bisognerà cercare di fare le nozze con i fichi secchi, soprattutto in alcune circostanze, non c'è la possibilità di spendere grosse cifre e quindi bisognerà lavorare anche un po' di fantasia e il resto dovrà mettercelo all'allenatore. Juric è disposto, se è disposto allora io sono il primo che spera nel rinnovo. Viceversa conviene a tutti, al Torino e anche all'allenatore, che le strade si separino.